Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Non mi interessa di OJ Gurel, Ken. Ero io quello che non voleva questo. Attività di riferimento di OJ Gurel su Ken Yaman sono qui con le ultime notizie su Ken Yaman e OJ Gurel. Ecco il riferimento di OJ Gurel a Ken Yaman. Per vedere i dettagli delle novità, guarda il nostro video fino alla fine e non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Nonostante la decisione finale della serie, la squadra del set non compromette la propria gioia. La squadra del set e OJ Gurel, che si è preparata con cura per l'episodio di stasera, continuano a condividere la loro situazione sul set. OJ Gurel, che ha condiviso i momenti in cui ha ballato con Ken Yaman, ha raccolto tanti eventi in breve tempo. Successivamente, OJ Gurel ha condiviso il post qui sotto sul suo account Instagram. Abbiamo dimesso gli uomini con cui eravamo malati. Ciò che in realtà si intende con questa espressione, che è un'espressione turca, è questo. Non amavamo quelle persone che ammiravamo e opprimevamo. Li eliminiamo dalle nostre vite. Le parole assertive di OJ Gurel hanno suscitato molte reazioni. Un'altra domanda che incuriosisce il pubblico è quella del marito di OJ Gurel, Serkan Kei, mio figlio. Ci sono molte notizie e voci su questo argomento. OJ Gurel potrebbe aver reagito a questa notizia. OJ Gurel, sono chiaramente qui e dico che non stiamo inseguendo nessuno. Come valuti questa affermazione? Puoi inviarci le tue opinioni. Puoi condividere i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti.